Ciao Rattilover, cerchi un SUV crossover, 7 posti, comodo e potente? Volvo XC90, 2000 di cilindrata, 235 cavalli, G-Tronic Business Plus. Bellissimo questo color Thunder Grey per quest'auto aziendale, quindi certificata e garantita per chi ha superato il test dei 100 punti di controllo dei nostri automotive expert. Ibrida alimentazione diesel ed elettrico per un consumo di 7 litri ogni 100 km e parliamo di consumo reale, misto. Fari full LED anteriori e posteriori e sensori di parcheggio perimetrali. Frontale super aggressivo e rialzato da terra. Scanalature sul cofano che le danno una verve aggressiva. Gruppo ottico anteriore allungato sulla fiancata che viene ripreso negli specchietti retrovisori esterni. Muda natura dei finestrini cromata che riprende le barre al tetto. Vetri per entrambe le sedute posteriori oscurati così come anche il lunotto per garantire privacy e protezione dai raggi solari. Cerchi in lega da 19 pollici a 5 razze e battistrada in condizioni perfette. Linee sportive e seducenti per questo crossover di poco meno di 5 metri. Bagagliaio elettrico. Luci di cortesia, gli interni sono foderati. È presente la ruota di scorta. È possibile abbattere entrambe le file di sedili posteriori con questa pratica leva. E la capienza arriva a 1874 litri. Spaziosità e comfort sono garantiti anche ai passeggeri dell'ultima fila di sedili. Con vano portaoggetti e portabibite dedicato così come le bocchette dell'ariazione. Lusso, comfort e spaziosità sono garantiti. E gli interni chiari rendono l'ambiente ancora più luminoso. Il sedile centrale della seconda fila può diventare un pratico poggia-braccio con portabibite e le sedute garantiscono comfort e ergonomia con il sostegno laterale e la morbidezza della pelle. Attacchi Isofix a entrambe le sedute esterne della seconda fila di sedili presa da 12 volt in fondo al tunnel centrale e vano portaoggetti dedicato ai passeggeri posteriori e tasca porta tutto. Curatissimi anche gli interni delle portiere, sempre chiari e con dettagli cromati. Il sistema di accensione è start and stop keyless. Bellissimo e super maneggevole il volante, guardate com'è sterza fluidamente, bicolor in pelle e dotato di numerosi tasti, tra cui il cruise control e il comando vocale. Meno di 17.000 km all'attivo e il quadro strumenti è digitale incastonato nella plancia. Il cambio è automatico GRtronic ed elettrico è il freno di stazionamento. Scopriamo insieme il display bellissimo al centro della plancia incastonato tra le bocchette dell'ariazione con modanatura cromata. Possiamo gestire il clima, B-Zona con Clean Zone. I sedili anteriori sono riscaldabili, secondo tre regolazioni. Possiamo scegliere il tipo di modalità di guida. Abbiamo a disposizione il Bluetooth e possiamo gestire la radio DAB. Oltre che accedere a tutte le funzioni del veicolo, abbiamo la modalità Sport, l'avviso di superamento della carreggiata, il sistema Connected Safety, la telecamera che ci permette di parcheggiare e procedere in totale sicurezza, il riconoscimento dei segnali stradali, l'assistenza alla velocità in curva e il limitatore di velocità. Abbiamo il Driver Alert Control che è un sistema di allerta del guidatore per guida inusuale dovuta a stanchezza. Abbiamo l'Heal Descent Control e l'Heal Start Assist. L'accensione dei fari anteriori a tempo, frenata automatica di emergenza, palpabile e poi la qualità dei materiali. Vediamo che vengono riprese le cromature anche sulla plancia. Inferiormente troviamo numerosissimi vani portaoggetti a scomparsa, sia nella parte anteriore che lungo tutto il tunnel centrale. Abbiamo a disposizione una presa da 12V e un doppio portabibite. Così come un ulteriore vano portaoggetti è presente sotto il bracciolo centrale con doppia pesa USB. Un SUV crossover imperdibile immatricolato nel 2019 che ha a cuore la tecnologia, il comfort e soprattutto la tua sicurezza. Scoprilo subito sul nostro sito rattiauto.com. Riservalo senza impegno per 7 giorni con soli 100 euro. Ricevilo direttamente a casa con il nostro servizio di consegna a domicilio con igienizzazione e non dimenticare di seguirci su tutti i social e di cliccare sulla campanellina del nostro canale YouTube. Alla prossima auto! Alla prossima!